Che facciamo Giù? Allora stiamo preparando il nostro shooting con tutti i prodotti Cosmocatenica per il nuovo cliente, stiamo dando una sistemata a tutto, sono foto che poi serviranno per video su YouTube, video su TikTok, esatto, post Instagram, un po' tutto, useremo effetti speciali? Certo, ho messo proprio il telo verde apposta, fantastico, piccolo problema, c'è? Telo verde, i prodotti sono verdi, col chroma gay, è tutto invisibile No, ti prendo No Cambia lo sfondo, va? Via